Fantastico velo, ciao eccoci qua, è arrivata anche lei, è una fantastica sposa Facci vedere il cerchietto, attenzione E devo dire che è proprio un cerchietto con i controazzi Allora, ciao, come ti chiami? Romina Di dove sei? Parma Cosa fai nella vita? L'impiegata L'impiegata, e perché parli tutta cosa? Ah, perché a Parma ce l'ha aperta Perma E' buono il credito di Perma? Sì, è buono Fantastico, allora, raccontaci un po' del tuo futuro lui, come si chiama? Elio Di dove è? Parma Come l'hai conosciuto? A una festa di paese Dai, che cosa è carina, come una volta fai la festina di paese, scocca l'amore, fai due ballate, ti embriaghi Sento tutto ciò, aspetta, cagami, guarda di lì Allora, Romina, se mi sai rispondere ti regalo un free drink, puoi farti aiutare Sei pronta? Come si chiama il presidente del consiglio attuale? Monti Brava, nome? Mario 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 Va bene, dai, glielo diamo lo stesso perché lo vogliamo bere Hai vinto un free drink, è una bevuta omaggio Va bene Salute a chi vuoi Ciao 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 Ciao